Siamo tornati con il settimo episodio della serie della vanilla ragazzi Da un botto di tempo che non faccio video sul canale Non faccio un botto di video da quando ho fatto l'ultimo della survival E finalmente dopo quasi due mesi penso, non lo so quanto tempo Siamo tornati appunto con il settimo episodio della vanilla Diciamo che ne ho parlato anche in live, ho avuto parecchi problemi in questo periodo Con la connessione che con il tempo diciamo, ovvero Diciamo che comunque stiamo risolvendo Non dovrebbe mancarci tantissimo Per il momento me la sto cavando Dunque si sta risolvendo tutto quanto Lo speciale teoricamente, lo speciale 100 iscritti Che tra l'altro vi ringrazio tantissimo Perché questo è anche il primo video che faccio dopo aver raggiunto i 100 iscritti E quindi vi ringrazio E poi questo è pure il primo video del 2021 Quindi un botto in ritardo però vabbè, ci sta Lo speciale 100 iscritti dovrebbe uscire tipo Spero di farlo uscire entro questo mese Ma non vi assicuro niente Però entro sto mese comunque Dovrebbe uscire lo speciale In questo video non faremo niente di che Farò vedere le cose che ho fatto nel mondo Vi dico che non ho fatto tantissimo Ma ho fatto un po' di cose Perché diciamo che oltre a vanilla Ho fatto le live Anche se siamo in questo periodo Non le sto facendo più Ma penso di ritornare a fare le live Almeno una volta a settimana Poi comunque Sapete, io non gioco soltanto Minecraft Comunque non gioco solo alla vanilla Faccio anche altro E quindi ovviamente non dedico tutto il tempo alla vanilla Però quel tempo che ho lì Però ce lo voglio giocare alla vanilla Ovviamente ce lo dedico appunto alla vanilla Quindi vi faccio vedere Un lavoro che ho appena iniziato a fare Off camera Ovviamente work in progress Perché non sarà mai così Questa è l'entrata del magazzino Vi ricordate che qua prima ci stava Una porta automatica Con un bottone Ecco l'ho tolta Perché faceva veramente cagare E ci ho messo questa piccola entrata Un po' Una grotticina Abbastanza dettagliata Abbastanza carina Ovviamente non è finita Mancano tutti i dettagli Tipo le slab Le scale Di questi blocchi qua Qua tra l'altro Ho leggermente modificato E qua al pavimento Ci ho messo Un po' di blocchi di legno Sia di warped Che di spruce Che siano plank Oppure legno Scortecciato Che diciamo che ci sta molto bene Con questi blocchi Con di pietra E quindi viene un bel effetto Poi attenzione qua Di fare un sentiero Che magari si collega In tutto il villaggio Diciamo una strada Il futuro villaggio Che sorgerà in questa zona E quindi questo È comunque un work in progress Però diciamo che Per il momento Sta venendo Abbastanza carino Insomma Almeno è più bello Di vedere Invece di vedere Una porta automatica Di due blocchi Veramente brutta Anche perché Devo metterci anche Il corallo morto Che ancora non l'ho trovato Ma che in futuro Quando ci avrò Lo metterò qua Perché Spuma ancora di più E viene tutto Ancora più carino Quindi questa Era una cosa Minima minima Che ho iniziato a fare Giusto perché Avevo tempo di farla Poi ovviamente La modificherò Come avevo già detto Adesso andiamo nel nether Perché Vi faccio vedere La farm di piglin Mi sa che nello scorso episodio Ma non mi ricordo Perché da un botto Che l'ho fatto E avevo fatto vedere La farm di piglin Però non avevo fatto vedere La decorazione E nello soprattutto Il magazzino automatico Che sta su Questa farm Intanto Vedo cose strane Tipo quel bellissimo Oglin che sta là E buongiorno Non vorrei Che Tu mi attaccassi Andiamo E come vedete Qua c'è la farm Non mi possono attaccare Perché c'è il vetro E L'avete già vista Però Qua sotto C'è questa bellissima Scalinata Che ci porta Al magazzino Della farm di piglin Qua c'è tutto Smistamento automatico Tanta la stanza Bella decorata A me piace Veramente tantissimo Soprattutto qua Il pavimento Con questo Questo disegno Con il vetro Grigio Chiaro E Sotto le ancore Dello spawn Tutte quante Attive Sono veramente belle Diciamo che La ghicchiano Leggermente Però Tanta roba Con tutta la carina Obsidian Poi che si farma Con questa farm Non ci ho voluto Tanto a farla Poi la glowstone Se ne trova A cotita industriale In giro per la mappa In giro per Per il nether E quindi Non è un problema Qua appunto Ci sono Tutte le varie ceste Questo magazzino Che ogni volta Che lo vedo Me ne innamoro A vederlo Perché veramente Mi piace veramente Tantissimo E qua c'è tutto Tutto lo smistamento Tutti gli oggetti Smistati automaticamente Ancora Non l'ho usata tantissimo Però perché Per il momento Non mi serve Però C'è già un bel po' di roba Ho formato già un po' di roba E Paca Cango Obsidian Perché appunto L'ho utilizzata E E niente Qua È il magazzino Della farm Di piglin Vi faccio vedere Anche che Qua fuori C'è Appunto Il Il sistema Adesso ve lo faccio vedere Allora Vabbè C'è L'hopper timer Che non ve lo sto a far vedere Tanto È semplicissimo Il classico Il classico hopper timer Qua c'è uno smistamento automatico Poi fanno di nuovo il giro di qua E ripassano di qua Per smistarsi L'ho fatto così invece che con gli hopper Perché se no Ci mettevano troppo tempo ed erano troppo lenti E c'era il rischio appunto che si intasavano Invece i dropper Sono più veloci Degli hopper E E quindi ho voluto fare questo sistema Proprio per Non rischiare che Sintasino Gli Gli Oggetti Ora Qua Diciamo Ho finito Con Il Nether Adesso vi farò vedere La Farm di oro Il magazzino automatico alla farm di oro Più l'estetica Che ho fatto In verità Ste cose le ho fatte portando tempo fa Però Non ho mai fatto il video perché appunto non potevo Stavo facendo notte però Vabbè dai Andiamo Andiamo di notte No vabbè raga Aspetto che si faccia giorno Ando a dormire E voi mi vedrete direttamente alla farm di oro Quindi ci sentiamo tra poco Eccoci ragazzi Mo' un attimo Non la intravedete Perché Ho la render distance bassa Ma eccoci qua la farm di oro Qua ovviamente all'esterno Non è cambiato niente Sempre la classica farm di oro Fantastica E potentissima E Se scendiamo qua sotto Questa testa è veramente brutta Infatti la dovrò modificare Qua Ci abbiamo Appunto Questi scaffolding In cui qua sopra Ci abbiamo il sistema di killing Che è uguale a prima E Qua sotto invece C'è tutta quanta Alla stanza Con tutto il magazzino automatico L'estetica È molto semplice Ovviamente Non me ne capacito È molto semplice Però diciamo che È anche molto carina Voi vabbè Vedete tutte queste torce Ma Le rimpiazzerò Le toglierò Perché sono veramente brutte Da vedere E Però fate finta che non ci sono Per adesso Questo appunto è tutto il magazzino Qua c'è il centro appunto Con Ci ho messo sia l'oro Che diciamo il quarzo Tutte le varianti del quarzo Che Stanno veramente bene insieme E Ci abbiamo Uno Due Tre E quattro magazzini Con tanto di fornaccia automatica Per cuocere le spade Anche se questo qua Non lo riesco a sfruttare a modo Perché Posso usare soltanto il carbone Che si consuma molto velocemente Con la cottura delle spade E quindi Ho bisogno di una farm Che produce tanto carburante Quindi per il momento È una farm Molto limitante Però Funziona molto bene Qua Vengono tutti quanti Sbistati Gli oggetti E Funziona tutto quanto Alla perfezione Eccoci ragazzi Con l'ultima costruzione di oggi Come vi ho detto prima Ho fatto poco Per adesso Ma per le motivazioni Che vi ho detto prima Intanto sono caduto Dalla cosa di ossidiana E Questa è la farm Di slime Che vi ho fatto vedere Nel Precedente Episodio E sto iniziando appunto L'estetica Sto facendo tutte quante Le mura Con questo pattern qua Che non è vero Il proprio pattern Ma siamo Diciamo Blocchi di Lana Concrete Sia powder Che dura Messi molto a caso Con anche Del redstone lamp Del vetro lime Che secondo me Per Dato che è una Farm di slime Che comunque Vabbè Verde Diciamo Ci sta molto bene Qua devo illuminare Pure tutte le caverne Perché Per migliorare L'efficienza Della farm di slime La farm non è cambiata Per niente A livello di funzionalità È sempre la stessa Però diciamo Però diciamo che Sto facendo L'estetica Sono praticamente A metà del lavoro Devo finire Questo burro qua Che sarà la parte Più faticosa E questo qua Che ovviamente È molto più semplice Anche perché È più piccolo Però diciamo Che metà del lavoro Appunto L'ho fatto Non fate caso Che ci sta questo beacon Ma mi serviva Prima per andare A rompere I blocchi Di contorno Delle mura E Soprattutto Non fate caso A questo schifo qua Che Sto un attimo Sistemando Per Per una cosa Non vi dico ancora Per cosa Ma diciamo Sto un attimo Terraformando Un pochino Non sarà tutto piatto È per carità Perché è brutto Pure questi blocchi qua Messi a caso Li toglierò Perché non c'entrò niente Qua si intravede addirittura Una torcia di redstone Intanto è sparato un mercante Mi sono cagato addosso C'è una torcia di redstone Messa qua a caso Ovviamente In qualche modo Li sistemerò Quindi State tranquilli Non rimarrà Sto schifo qua Però Intanto Sono una buona parte Del lavoro Diciamo che Sono abbastanza soddisfatto Per il momento Del progetto Intanto c'è anche Uno slime Degli slime Che stanno morendo Quindi Fantastico E E niente ragazzi Quindi questo Diciamo Erano Queste diciamo Erano le novità Del mondo Vi ripeto un'altra volta Non ho fatto tantissimo Ma Vi ho spiegato già Il perché Magari Nel prossimo episodio Vi farò vedere Altre novità che ho fatto In più Costruiremo qualcosa di nuovo Devo ancora decidere Che cosa Costruiremo in video Però C'è Ho già delle mezze idee Ho tanti progetti In mente da fare Per questo mondo E E quindi Diciamo Bisogna darsi da fare Quindi spero che Dopo tantissimo Dove Con questo fantastico Ritorno Sul mio canale Questo video Vi sia piaciuto Commentate Se avete i suggerimenti Qui sotto Nei commenti Per il canale E per la serie Iscrivetevi al canale Per supportarlo Noi ci vediamo Con un prossimo episodio Della serie Della vanilla Ciao ragazzi